Buongiorno, ci permettiamo in questa gara con Messina, la seconda consecutiva in casa, una sfida difficile perché contro una squadra che nell'ultima gara nonostante fosse andato sotto di una rete poi è riuscita a rimontare, quindi che gara si aspetta? Buongiorno, vi ringrazio anticipatamente delle domande che mi farete, ci aspettiamo una partita con un buon indice di difficoltà, siamo all'inizio e secondo me in questo momento tutte le gare visto anche i risultati nel nostro girone sono gare difficili che presentano delle incognite anche sotto l'aspetto prestativo dei singoli calciatori, quindi la difficoltà è nel campionato stesso e risiede nel campionato. Da parte nostra, più che analizzare le difficoltà che ci possono porre l'avversario, stiamo cercando di lavorare con la cultura di provare a dividenziare i difetti degli altri. Nelle ultime due partite questa cosa in parte non ci è riuscita, però noi dobbiamo continuare a lavorare su questo percorso di crescita che ci vede sicuramente protagonisti nell'idea, perché la squadra mi sembra che abbia un'idea ben consolidata e vorrei anche da questa domanda partire con una considerazione, ed è una considerazione che ci pone davanti tutti quanti a una scelta di campo. Ho sentito, ho letto e ho visto che dopo la sconfitta di Trapani si è fatto un ragionamento, si è perso e quindi non si è fatto bene. Questa proporzione diretta non mi è piaciuta, perché analizzando non io, ma tutte le strutture statistiche importanti che ci danno un appoggio per capire la partita di Trapani, è una partita di Trapani che se non ci fosse il risultato nessuno avrebbe dovuto mettere il Crotone come squadra sconfitta. Quindi noi dobbiamo fare una valutazione. Se all'inizio abbiamo parlato di un progetto che ha bisogno di tempo per essere visto nella sua interezza, se alla seconda partita in casa incominciamo a fare valutazioni solo rispetto al risultato, io ho poco da parlare. Il risultato è negativo, non parlo. Quando è positivo siamo tutti quanti qui ad essere felici. Io penso che non è questo il ragionamento che dobbiamo fare. La squadra con il Trapani è stata identitaria, non c'è stata, ripeto, una sola struttura statistica che ci ha visto negativi in tutti i ruoli, in tutte le situazioni, in tutte le fasi. Possesso palla, tiri in porta, tiri nello specchio della porta, tiri fuori dalla porta, percentuali di duelli vinti. Poi si perde, però noi dobbiamo accettare una considerazione. L'ho detto dall'inizio, vogliamo lavorare sul merito o vogliamo lavorare su quello che dobbiamo prendere? Se vogliamo prendere tutto e subito non è questa l'annata. Quindi mi rifaccio per capire che clima vogliamo creare attorno alle aspettative della squadra. Perché mi sembra che vogliamo costruire qualcosa, ma in realtà non abbiamo la voglia di aspettare che si costruisca. Noi stiamo appena buttando le basi per un progetto, stiamo appena buttando le basi per avere un fondamento solido. E quindi io vorrei ristabilire con voi quel pacifico e quella volontà che mi ha spinto dall'inizio ad essere molto leale con voi a parlare dei meriti della squadra, di come la squadra la vedete in campo. Quando la vedete che gioca male, allora voi dovete sottopormi questa situazione. Se partiamo però che gioca male quando perde, gioca bene quando vince e allora io sto qua poco a dirvi, perché non ho possibilità di dialogare se parliamo lingue diverse. Grazie. Mister, la squadra come sta? Gli acciaccati, Gomez, Di Pasquale, Vinicius riesce a recuperare qualcuno? Penso che potremmo provare a recuperare qualcuno, non tutti, perché purtroppo ci sono un po' di situazioni ancora da mettere a punto, ma mi auguro che di questi tre calciatori di cui ha parlato, almeno uno lo riesco a mettere in campo per, almeno per una parte di gara. Grazie. Salve Mister, Giuseppe Livedoti, della provincia di Cappello. Buongiorno. Mi allaccio a quello che lei ha detto nella prima domanda che le è stata fatta. Sono d'accordo, il Crotone a tratti piace, va anche in vantaggio, però a un certo punto nel corso della partita in toto non riesce a contenere gli avversari. È chiaro che, come ha detto lei, siamo in una fase in cui stiamo studiando tutto il percorso dei vari giocatori che abbiamo, le loro attitudini tecnico-atletiche e questo si deve conciliare col fatto che la classifica non aspetta nessuno. Considerando che giocheremo la quarta giornata, per il materiale umana che lei ha a disposizione, dopo Trapani, che livello ha raggiunto di preparazione per affrontare una squadra come il Messina che ha dichiarato tramite il suo tecnico che a Crotone la partita se la vuole giocare. Ma ci mancherebbe che ci sia un tecnico che possa, preparando una partita, dire che non si voglia giocare o non giocherà per vincere. Credo che non ne troveremo tanti all'interno del nostro girone. A che punto siamo? Siamo al punto che abbiamo fatto tre partite e in tutte e tre le partite penso che siamo stati competitivi. Quella col Trapani in modo superlativo secondo il mio punto di vista, perché questo è un altro aspetto che vorrei analizzare. Spesso il blasone della piazza ti comporta una valutazione secondo me che non sono meritevoli. Nessuno ha parlato di un Trapani che era in difficoltà, evidente, ma la squadra che è presente il Trapani è una squadra che lotterà probabilmente per vincere il campionato. Senza ombra di dubbio. E quindi per quanto mi riguarda la migliore delle tre partite è stata quella con il Trapani, guardando il materiale umano che si contrapponeva al nostro materiale umano. E io non credo che noi siamo stati secondi su nulla. Quando lei mi dice come mai non si è continui, perché fortunatamente ci sono gli avversari, nel senso che se noi riuscissimo a fare partite come abbiamo fatto con l'Altamura per 90 minuti è probabilmente non saremo di questa categoria. All'interno di una partita dove di fronte abbiamo calciatori otto undicesimi che hanno giocato in Serie B, ci si può aspettare che dopo il vantaggio gli altri ti impongono di dover difendere. Non siamo noi che ci siamo arretrati, sono gli altri che hanno preso il pallino del gioco e hanno provato a ribaltare la partita. Quindi da questo punto di vista c'è una valutazione che quando siamo stati in difficoltà abbiamo concesso molto meno di Cava dei Tirreni. E poi nel dettaglio, perché è il dettaglio che in questo momento non ci vede protagonisti. E ovviamente il dettaglio va allenato. Secondo me avessimo, quando saremo pronti a battagliare anche sulle piccolezze, perché noi prendiamo gol su una palla inattiva dove dobbiamo lavorare di più e dobbiamo essere tutti più attenti, perché con la palla inattiva ancora oggi meriterebbe vendetta. Però per il resto e sul primo tempo non ci sono stati interventi del portiere. Ancora oggi abbiamo il portiere tanto battuto, ma che ha dovuto fare meno parate di tutti gli altri portieri. Siamo ventesimi in questa speciale classifica. Il portiere che para meno è il portiere del crotone calcio. E quindi questo è un dato eccezionale. Ovviamente stiamo prendendo dei gol troppi per quanti tiri ci fanno nello specchio della porta. Quindi a che punto siamo? Lo dirà il campo. Noi sappiamo però che più a che punto stiamo ed ogni partita sembra come dovessimo rafforzare e far capire che ci siamo. Io penso che ci siamo a prescindere che noi siamo identitari nel modo giusto, sappiamo il percorso che dobbiamo fare, però ritorno al discorso del blasone. Mi sembra che ci sia una proporzionalità diversa. Mi chiamo Crotone e devo vincere. Quest'anno mi chiamo Crotone e voglio progettare per vincere. E questo ha bisogno di un tempo. Se siamo riusciti a fare campagna acquisto interno, rivalutare una rosa, riuscire a fare un budget molto meno probante per i club, abbiamo bisogno del tempo giusto, ma questo non è un alibi. È quello che abbiamo detto dall'inizio. Dateci tempo, rispettate se noi riusciremo a farvi godere del nostro impegno. E ad oggi mi sembra che la simbiosi squadra pubblico abbia preso il giusto viatico. Adesso dobbiamo essere noi, coloro che trasferiscono emozioni, coloro che cercano di divulgare quello che stiamo facendo. Credo che si veda lontano miglio che c'è un'idea di gioco, che la squadra segue un'idea e poi ovviamente dobbiamo limare i dettagli, ma i dettagli vanno limati sapendo anche quello che noi vogliamo fare. Quest'anno noi vogliamo progettare e capire se quanta gente meriterà il Crotone per poi fare qualcosa di straordinario. Sono, lo ha detto lei e siamo d'accordo, sono tutti titolari nel Crotone, al di là che uno è assente per motivi fisici o disqualifiche. Contro il Messina si farà riferimento alla partita precedente per eventuali cambi? No, io credo che questa partita sarà una partita in cui vedremo un Crotone più giovane che comincerà a fare giovani, come giusto che fosse, perché anche questo è una delle idee che abbiamo partorito con i club dall'inizio. Io non ho nessuna imposizione per dover fare, fortunatamente sono nella direzione tecnica di una società che non ha bisogno di fare il minutaggio soltanto per una questione economica, ma credo che questa piazza possa essere di nuovo piazza che possa valorizzare i giovani. Quindi da domani la squadra farà giovani, farà minutaggio, perché credo che sia arrivato il momento di poter schierare i giovani interessantissimi e quindi vedremo una squadra diversa nel suo undici, ma altrettanto volenterosa di fare le cose fatte per bene e cercare di essere, ripeto, riferimento per l'ambiente per portare avanti nel modo giusto i nostri colori. Quindi il riferimento sicuramente la squadra sarà ringiovanita domani e vedremo come i giovani si sono preparati in questo periodo per poter meritare la titolarità che gli darò domani. Buongiorno mister Francesco Pidingolo, CN24. Ci eravamo lasciati nel post partita Trapani dove analizzando la partita lei stessa aveva detto abbiamo avuto paura di vincere. Sotto questo aspetto psicologico si è lavorato in settimana, si è fatto qualcosa, si è analizzata la partita, la sconfitta subita Trapani nonostante il bel gioco espresso. Guardi io grazie della domanda, molto interessante, io sto continuando a lavorare oggi per questo motivo in sala stampa con voi, nel senso che la paura è reale qualora noi ci mettiamo in testa obiettivi oggi non raggiungibili nell'immediato. Non posso vincere in una partita un campionato, quello che dobbiamo comprendere e credo che il percorso sia questo. La squadra con 6-7 undicesimi ancora con la valigia pronta durante il cammino che abbiamo fatto, senza responsabilità, frutto anche del fatto di non sapere se si fosse rimasti insieme fino al fine campionato, è stata una squadra leggera. Vedi Messina con ovviamente tutti i limiti del momento, vedi Catania dove mi è sembrata una squadra che andasse ad imporre quello che voleva senza nessun tipo di responsabilità. Vedi la stessa partita con l'Altamura dove il mercato era ancora aperto tendenzialmente e poi cosa succede? Succede che si fa così bene, perché si fa così bene in poco tempo, che sembrava di nuovo di doversi prendere responsabilità o che dietro l'angolo ci fosse il negativo e questo è il grado di responsabilità che non dobbiamo dare. Io ho chiesto alla squadra che dovranno fare le cose che lavoriamo e quando si va in vantaggio dobbiamo provare a rifare un altro gol a discapito anche di un equilibrio, che siamo troppo equilibrati secondo me invece in realtà. Detto questo è proprio lì che dovremmo lavorare tutti, non possiamo far sì che questa squadra si ponga delle responsabilità così elevate. Poi lei mi dirà, voi mi direte ma siamo a Crotone, sì siamo a Crotone con una progettualità diversa. Una squadra che si pone l'obiettivo di rifar vedere un calcio bello, propositivo. È ovvio che qui si voglia vincere, è ovvio che qui si vuole progettare per farlo. Abbiamo bisogno di tempo, io ho bisogno di una squadra che abbia il coraggio di offendere anche dopo che ho offeso tanto. Questo deve essere il termine. Sì ci sto lavorando e continuo a lavorarci questa mattina. Ho bisogno di una squadra che non si ponga limiti a prescindere dal risultato, a sconfitta dalla vittoria. Possiamo costruire qualcosa di importante se ci sentiamo tutti più leggeri. Durante lo svolgimento della partita si assiste a una prima fase di alto livello e si conclude più o meno con la stessa intensità che si è vista all'inizio. Forse merito anche delle sostituzioni. Oggi nel calcio moderno le cinque sostituzioni consentono di cambiare quasi il 50 per cento della squadra con la conseguenza che c'è più benzina nelle gambe. Ma nella fase centrale si è pensato forse a fare un maggior filtro a centrocampo per subire forse la meno l'abbaldanza degli avversari? È stato con me questa settimana in campo. Devo vedere se c'è qualche buco perché secondo me state guardando con i binocoli. Sì abbiamo pensato di in quella zona di campo di provare ad essere un attimino più bravi. Mi sembra che la squadra in alcuni momenti si spacchi un po' e questo lo si nota soprattutto quando gli altri hanno palla perché la nostra è una squadra che piace poco giocare senza palla in realtà e qui è quasi frenetica quando la palla la tengono gli avversari. C'è da dire però che anche su questo nelle tre partite abbiamo sempre avuto di noi più la palla degli altri. Quindi se dovessi trovare una ricetta anche a questo cambiamento è quando teniamo palla dobbiamo però gestirla meglio perché potremmo come dicevo con l'altamura fare qualche gol di più quando lo meritiamo e quindi la problematica poi in fase di non possesso non diventa vitale perché noi vitale inteso come vita e non come calciatore nel senso che se tu hai il doppio vantaggio fa il doppio vantaggio probabilmente sei anche più fluido nel gestire non possesso palla. Quindi è vero sia la cosa che dobbiamo essere più bravi senza palla però dobbiamo anche essere più incisivi in quei momenti in quei momenti in cui lei dice vediamo una squadra arrembante dall'inizio che prova a mettere sotto l'avversario ed è vero e ogni volta però secondo me ne veniamo fuori con il minimo scarto da quel da quel momento perché nelle nella prima nella terza partita sicuramente ci sono stati momenti in cui abbiamo dominato l'avversario anche trapani secondo me eravamo meritevoli il tiro di vitale altre due situazioni da gol che abbiamo creato prima del gol stesso dobbiamo essere più bravi da quel punto di vista però stiamo lavorando stiamo provando a trovare quella cerniera quel modulo quella possibilità di varianza tattica che quando gli altri hanno palla noi non dobbiamo innanzitutto non dobbiamo avere frenesia per recuperarla ma dobbiamo anche essere più bravi sotto palla questo sì grazie a lei e buongiorno un giorno romano mega press nel rapporto che abbiamo stabilito non bisogna demonizzare un po quelle che sono le nostre critiche le nostre risposte come non bisogna esasperare quelli che sono gli errori che magari vediamo nel corso nella lettura con le partite praticamente altrimenti ecco come diceva lei all'inizio il rapporto si incrina insomma è inutile fare le conferenze stampa se non c'è questo rapporto chiaro e di capire quali sono le esigenze di uno e dell'altro per quanto riguarda ecco anche quando si approfondisce su degli errori perché poi alla fin fine se noi eleviamo le cose buone dimentichiamo le cose negative insomma e quindi non ne parliamo per niente a questo punto e questo non dovrebbe far male a questi professionisti dice hanno paura hanno questo a quello e quell'altro non riescono poi se noi facciamo delle critiche a mantenere la loro identità che io sto cercando di costruire quindi bisogna trovare un equilibrio in questo altrimenti nel rapporto sono 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 d'accordo romano ed è però l'equilibrio dobbiamo trovare insieme nel senso se volessimo riguardare insieme la conferenza post trapani noi abbiamo analizzato solo gli errori dobbiamo essere sinceri perché io sono con voi sempre leale lo sarò sempre quando voi vedrete una persona non leale che non dice quello che pensa me lo dovete sottolineare noi io dopo trapani ero qui e mi sembrava la ventesima giornata di campionato e con una classifica dove noi eravamo primi e la squadra che ci aveva battuto era ultima in classifica e non è così perché la partita riguardando le poi vi ho detto che andrò a riguardare i numeri io quando vengo a parlare in sala stampa ho già dei miei numeri quindi tendenzialmente non è che aspetto le statistiche il giorno dopo perché abbiamo già chi lavora per vedere quali sono i dati poi su cui poggiare la conferenza con voi se tiro più degli avversari il giorno dopo non potrò avere un dato diverso e il tiro è l'equilibrio di una partita se ho più corner degli altri se ho più situazioni di vantaggio numerico su un attacco non me lo posso ritrovare negativo il giorno successivo quindi quando sono venuti in sala stampa mi è sembrato strano non sentire mai peccato abbiamo perso una partita dove probabilmente non era assolutamente meritevole di perdere con la partita basti pensare che dopo il aver subito il secondo gol noi abbiamo avuto un gol molto più semplice da fare era molto più semplice fare il gol con giron che non farlo nessuno l'ha detto nessuno l'ha rimarcato quindi io sono d'accordo con lei non sono assolutamente uno che si sottrae dalle critiche non sono assolutamente uno che vuole costruire alibi con i propri calciatori però dobbiamo capire che dovremmo per avere quell'equilibrio dire abbiamo perso dobbiamo curare questo dettaglio sulla palla inattiva peccato avete sbagliato e bisogna riconoscere la responsabilità dell'errore su quella marcatura in palla inattiva però bisogna poi dire dall'altra parte abbiamo fatto una buona gara probabilmente la migliore delle tre viste fino adesso se non guardiamo il risultato soltanto se veniamo qui soltanto per il risultato e allora non c'è la cultura che ho provato a mandare cioè nel senso di dire cerchiamo di analizzare non se abbiamo vinto se abbiamo perso cosa abbiamo fatto quindi cosa avremmo meritato da quella partita non quello che abbiamo realizzato poi con il tempo quello che meritiamo probabilmente lo lo riavremo indietro perché è così che si si crea un campionato di progettualità e di prospettiva però l'equilibrio si ci deve essere sono d'accordo con lei però troviamolo troviamoli insieme e quindi assolutamente a squadra mica deve essere ovattata qua stiamo lavorando a crotone abbiamo bisogno di gente che abbia anche una cultura delle pressioni però è anche abbiamo anche bisogno di dirci che siamo un crotone diverso abbiamo bisogno di dirci che abbiamo rivitalizzato calciatori che a crotone sembravano delle meteore e tutto questo è comunque parte del merito di tutti noi e attenzione perché per me l'ambiente nella totalità se incominciamo a fare il ragionamento classifica solo risultato io verrò a fare delle analisi con voi dirò che non sarò d'accordo ma non potremmo essere come dire portatori sani di positività che non è essere sciocchi attenzione anche perché state parlando con un allenatore che negli ultimi otto anni è partito sempre così sempre così però realizzando due finali playoff con una vinta facendo arrivare un club per la prima volta nella sua storia nei playoff andando a fare il miglior risultato di sempre in una squadra di serie c precedente a questa è questo il risultato parlate con un allenatore che ha fatto questo sa che tendenzialmente gli inizi sono difficili mi auguravo di averlo meno difficile ma in realtà sull'identità della squadra siamo avanti ce lo dovremmo dire qualche volta cioè che la squadra ha già oggi è una squadra che sembra una squadra che ha un suo senso compiuto in termini tecnico tattici adesso un'occhiata alla classifica alle tre classifiche la prima nel geronea due squadre a punteggio pieno quindi nove punti nella b una sola squadra in c invece si scende a sette punti con quattro squadre con un gruppo in testa di quattro squadre che significa questo che il nostro girone più equilibrato o ha più problemi no no significa che un girone equilibratissimo significa che probabilmente ci sono squadre che verranno fuori alla distanza perché ci sono valori e di squadre che non possono pensare di partire come sono partiti e nel tempo poi secondo me i valori verranno fuori ricordatevi l'inizio dell'anno scorso dell'avellino del benevento alla fine poi i valori si concretizzeranno alla lunga ci sarà chi alla lunga porterà avanti i valori e quindi squadre che saranno pragmatiche ma i valori dei calciatori faranno la differenza chi con l'organizzazione probabilmente riuscirà a sopperire alla mancanza di valori io credo che questo sia un campionato infernale equilibrato dove non bisogna essere presuntuosi non bisogna portare avanti lo scudetto più di quanto non sia necessario nel senso che bisogna rispettare i blasoni ma in realtà non c'è una sola squadra con cui vai a giocare in questo girone in cui non c'è la possibilità di perdere una gara è assolutamente un campionato di un equilibrio assoluto e questo equilibrio secondo me io dico sempre la stessa cosa che porterà il vantaggio alle squadre più organizzate Salve mister Gianfranco Turino Rossoblu buongiorno mi ha un po' rubato la domanda perché io sarei partito proprio dalle sue partenze storiche perché le squadre di mister Longo sono un po' diesel ci mettono un po' di più in motore a riscaldarsi rispetto alle squadre a benzina in questo percorso lei dice siamo avanti secondo lei quando pensa che potremmo essere pronti di vedere quella squadra che fa molti meno errori soprattutto in fase di rompossesso o di ripartenza e e poi dopo le volevo fare una domanda invece facciamo una una alla volta senza problemi allora il ragionamento l'ho già fatto io dico sempre che le dieci giornate tendenzialmente sono lo spartiacque sugli equilibri di un campionato quindi ma non ci sottraiamo dalla responsabilità dire che avremmo potuto fare meglio vorrei che passasse questo messaggio attenzione non mi piacerebbe che passasse un messaggio diverso io so che potevamo fare meglio so che abbiamo fatto partite che potevano produrre già meglio in questo momento e il fatto di dover migliorare in fase di possesso lo continuo a dire di non possesso continuo a dire però che possiamo migliorare anche la fase di possesso perché probabilmente se avessimo fatto gol sull'azione creata con Giron saremo a parlare di una partita diversa quindi ci dobbiamo assumere la doppia responsabilità perché se no significherebbe che arriveremo al reparto difensivo scaricheremo sul portiere e soltanto chi difende la squadra difende nella sua consistenza con tutti gli effettivi e attacca con tutti gli effettivi quindi da questo punto di vista noi possiamo fare meglio in entrambe le le situazioni penso che le dieci giornate siano giornate giuste per fare delle valutazioni anche se ricordo a tutti che dieci giornate alla prima mia esperienza in C ero ultimo in classifica con sette punti è la realtà io dalla decima giornata a Picerno primo anno ero ultimo con sette punti in classifica siamo finiti sesti a 59 punti giocando l'ultima partita in casa col Pescara perdendola se avessimo vinto quella partita noi ci siamo giocati il terzo posto in casa nostra a 62 saremo andati a fare il terzo posto a fare le fasi nazionali sono fatti altra considerazione che faccio con lei è vero che siamo diesel sono diesel in partenza il secondo anno a Picerno non è stato così la partenza stata partenza stellare ed era frutto comunque di un'annata è precedente di una costruzione di un'idea di lavorare su un'idea è troppo semplice parlare e massimalizzare come dire si è diesel quando si parte probabilmente lo si è ma quando si crea una cultura tutti i miei secondi anni sono stati migliori dei primi non so se rendo l'idea e non sono stati anni in cui poi però anche lo stesso primo è stato un primo di alta classifica ma questo per conoscerci io negli ultimi otto anni non sono mai arrivato o meno del sesso posto in classifica nelle ultime mie esperienze e il nono anno era ero collaboratore in B siamo andati via è una squadra che ha pensato bene di cacciarci eravamo terzi a due punti dalla serie a diretta il Livorno non è arrivato neanche a fare i playoff quando siamo andati via noi e quando siamo andati via dopo il giorno d'andata eravamo terzi a due punti dalla prima in classifica cioè i dati sono questi ovviamente io mi auguro che saranno questi anche migliorabili però lo dico soltanto per dire siamo sereni non dovete essere sereni che se vedete una squadra allo sbando ma la squadra non è allo sbando è una squadra che quando si vede in mezzo al campo se la si riconosce la riconoscono tutti e ci riconoscono l'impegno perché io so saputo che probabilmente domani mi auguro che che mi hanno dato la notizia sbagliata che domani la curva non ci sosterrà ma non per per altre situazioni è uno spettacolo vedere la sinergia e il riconoscimento che alla squadra viene dato al fine partita anche nella sconfitta anche nella seconda sconfitta quindi si riconosce che c'è impegno e c'è una squadra in campo adesso dobbiamo velocizzare quel processo di apprendimento però perché non ci dobbiamo cullare sul tempo il tempo ha dissi l'anno scorso che volevo essere ladro di tempo non mi piace che mi devono regalare del tempo io non voglio essere in debito con nessuno io voglio regalare all'ambiente al club che lo merita subito i risultati sperati ovviamente vorrei rubare un po di più il tempo per poi potercelo spendere bene quindi nessuno deve stare sereno dei miei calciatori o il mio gruppo di lavoro nel voler velocizzare questo processo però un processo che è evidente che è partito non siamo fermi sì io proprio sul processo sulla partita vorrei fare la seconda domanda e noi abbiamo dal mio punto di vista poi magari mi può correggere anche con i suoi dati e sia a cava che contro il trapani abbiamo sofferto le ripartenze cioè palla nostra costruzione dal basso arrivati alla mediana molto spesso è capitato che ci sono stati degli errori che hanno concesso invece la ripartenza agli avversari e anche l'azione pericolosa è successo in entrambe le partite e a cava avevamo solo tuminello come punto di riferimento in avanti che è l'uomo poi che viene anche a centro campo a prendersi un po di responsabilità contro il trapani non avevamo né lui né gomez vedremo qualche novità o vedremo questa applicazione magari fatta meglio rispetto alle ultime due gare no vedremo delle novità assolutamente però mi dà possibilità di ragionare insieme con tutti rispetto a questo aspetto della transizione devo dire che sono d'accordo su cava non sono d'accordo su trapani il trapani abbiamo subito una sola ripartenza su un calcio d'angolo nostro una palla inattiva nostra gestita male in transizione quando poi è stato bravissimo gallo e a recuperare palla con con te che si è involato da solo in uno contro uno con il nostro con la nostra preventiva ma non ci sono stati altri aspetti transitivi anche quella fase è stata con il trapani migliore sull'aspetto della costruzione è un altro dato falso nel senso attenzione falso spesso noi ci limitiamo a fare valutazioni su una costruzione e poi persa la palla a centro campo quella palla persa è frutto di una costruzione io vi vorrei rirovesciare questo paradigma quando abbiamo lanciato con il trapani e l'abbiamo fatto molto più di quanto avremmo dovuto farlo non abbiamo recuperato una volta il pallone sul gioco aereo abbiamo perso quasi tutti i duelli sempre costantemente se avessimo preso gol su una palla rilanciata dal portiere so che non saremmo stati mai messi in croce so che se avessimo perso con il portiere che distribuiva sui nostri due difensori centrali la palla e prendevamo gol era frutto di una costruzione dal basso anche questo capiamoci perché si costruisce perché mister non sono un'esteta della costruzione dal basso fino a se stessa ma la realtà è che ogni volta che costruiamo usciamo bene dalla costruzione creiamo un pericolo agli avversari se usciamo bene con la qualità che abbiamo nei cinque davanti noi mettiamo in crisi chiunque come squadra se a quei cinque gli portiamo una palla aerea da combattere siamo al 51 per cento non al 50 e 50 che la palla la prendono gli altri e quei cinque non giocherebbero mai quindi bisogna mettersi d'accordo su questo quindi la costruzione è un vantaggio quando è sempre un vantaggio altrimenti non capiremo saremo quelli che analizzeranno quando prenderemo un gol ma non analizzeranno quanti gol abbiamo fatto da costruzione questo sarà un dato che vi porterò in pasto perché è stato sempre così come l'una io negli ultimi due anni ho dato fate tutti gli scongiuri perché ne ho parlato con la squadra fateli tutti gli scongiuri e vedo che lo state facendo ho detto alla squadra guardatevi la mia ex squadra come lavorava come ha fatto gol contro di voi come ha fatto altri gol il 44 per cento dei gol del picerno che mi sembra che sia stato a terzo a quattro attacco del campionato sono avvenuti da palla dal portiere messo nella porta degli avversari il 44 per cento è un numero abnorme abbiamo preso zero gol su costruzione rischiando due volte una volta a taranto e una volta in casa punto ma se avessi preso dei gol e non dovevo odiare la costruzione dal basso se mi dava il 44 per cento alla fine dell'anno come realizzazione dei gol partì parto col portiere e il 44 per cento di una squadra che ha fatto tantissimi gol sono di natura di costruzione quindi è un'idea è ovvio che quell'idea deve essere migliorata non devi rischiare devi provare a leggere il momento e su questo però ripeto leggere il momento lo fai in calo lo fai in allenamento come diceva il collega poco anzi certo che lo fai ma non è la stessa cosa di giocare sotto la tua curva o giocare e l'ambito sempre della partita che ti dà l'esperienza e l'ambito sempre della pressione vera che poi ti dà la possibilità di capire quanto sei bravo a poter fare un certo tipo e a mettere in pratica un certo tipo di idee buongiorno Longo Vincenzo Saporito Esperia TV buongiorno lei nel post partita di Trapani una gara che è stata bellissima dal mio punto di vista perché entrambe le squadre hanno giocato un calcio di un ottimo livello peccato per la sconfitta comunque ha detto una cosa importante cioè questa squadra non ha bisogno di gente di volata ha bisogno di scalatori e in funzione di quanto lei ha fermato domani vedremo i giovani in campo sì vedremo non in funzione mi piace portare questo questa idea non ho non ho iniziato subito con i giovani perché credo che avevano bisogno di un di un periodo no di di ambientamento sono stato da questo punto di vista era un po più diesel del solito e questo me lo rimprovero ma non per chissà quale motivo perché tendenzialmente sono sempre stato una persona che ha usato un allenatore che ha usato tanto anche quando in dia erano previsti quattro anni l'ho fatto campionati interi con 5 6 ho allenato la squadra più giovane d'italia per esempio 10 anni fa 12 anni fa vincendo quella speciale categoria della classifica della squadra più giovane proprio in italia in tutti i gironi e quindi credo che giovani possa essere un valore assoluto ovviamente non basta essere giovani per essere bravi e quindi che ho voluto dare un po di tempo in più alla possibilità ai giovani di ambientarsi di guardare figure con un certo curriculum con una certa maturità ma è arrivato anche il momento di essere leali con il con il progetto che avevamo a disposizione che abbiamo a disposizione dobbiamo valorizzare quello che abbiamo a disposizione come giovani sono giovani interessantissimi crudone deve ritornare ad essere la 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 il club che abbia florenzi bernardeschi non so se rendete cura la terra di chi mette a disposizione un ambiente eccellente per poter emergere e probabilmente questa sarà la strada che ci vedrà protagonisti ovviamente ai miei giovani che hanno meritato questa chance domani chiedo di guardare ancora nel nel bagaglio esperienziale di tutti i vecchietti che abbiamo a disposizione che poi in realtà quest'anno di vecchietti veramente ne potremo contare sulle dita di una mano e quindi di continuare questo percorso di crescita domani li metteremo in campo sono convinto che ci daranno grosse soddisfazioni e nient'altro da loro mi aspetto come dico sempre tutti tutti i giorni tutti i santi giorni di allenamento che loro devono eccellere e l'eccellenza è dare il meglio di se stessi noi vogliamo giovani che devono il meglio di se stessi in realtà vogliamo una squadra che provi a dare il meglio di se stessi guardiamo la gara di domani si affronta un messina sicuramente diverso da quello affrontato in coppa italia quali sono i rischi secondo lei una squadra ben allenata stimo molto modica squadra chiaramente identitaria che la prima partita che ha fatto contro di noi per esigenze si è schierata in modo diverso domani troveremo una squadra che che fate 4 3 3 un punto di partenza mezzali che si inseriscono terzini molto validi anche organicamente a fare la fascia e fare le due fasi di gioco soprattutto molto offensivi quindi mi aspetto una squadra pungente e che abbia voglio di fare la partita anche frutto delle ali dell'entusiasmo della della rotonda vittoria fatta nell'ultimo nell'ultimo turno e noi dobbiamo essere dall'altra parte una squadra ecco che torno al ragionamento iniziale consapevole e che si cibi delle prestazioni che fa non deve guardare solo il risultato altrimenti diventiamo e ci involiamo in un percorso depressivo noi dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo costruendo dobbiamo essere bravi a capire quanto siamo vicini alla meta perché poi la nostra meta è essere continui essere continui nei 90 minuti a saper leggere i momenti della partita a non rischiare se non c'è una possibilità di gioco a giocare quando ce n'è la possibilità c'è una richiesta diversa e quindi sappiamo che se siamo diversi dobbiamo avere abbiamo tempi diversi abbiamo modalità diversi di apprendimento ma quando quell'apprendimento sarà chiaro e là saremo intescambiabili ci saranno giovani o meno giovani imporremo gioco dappertutto e proveremo a fare un campionato straordinario e nello straordinario pongo sempre lo stesso come elemento distintivo sarà un campionato fatto da persone eccellenti che proveremo sempre a migliorarci a dare soddisfazioni questo è è quello che mi aspetto nella partita di domani ovviamente lasciando i ragazzi leggeri di pensare che devono lavorare per la prestazione dobbiamo anteporre la prestazione anche in questo momento anche nei momenti successivi prestazione 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 non troviamo scorciatoi non abbiamo bisogno di scorciatoi non me l'hanno chiesto il percorso è bello chiaro la strada è lunga ho bisogno di scalatori scalatori intendo gente di sacrificio gente che nel sacrificio anche di dover imparare a stare in campo pone il suo obiettivo quotidiano sì dobbiamo essere scalatori e soprattutto dobbiamo essere bravi domani a rifare una prestazione identitaria perché è quello che sarà il riconoscimento del crotone alla stagione 24-25 buongiorno mister guida la c news 24 crotone informa una premessa mi sento d'obbligo farla noi giornalisti non siamo chiamati a divulgare non siamo chiamati a spingere non siamo chiamati a gestire gli ambienti siamo chiamati a raccontare quello che vediamo il bello del calcio che si può vedere in 10.000 modi differenti sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista emozionale altrimenti non sarebbe il giochino più interessante dal punto di vista economico che permette a me a lei di fare due conferenze stampa alla settimana questo è doveroso mi sentivo in dovere di doverlo ricordare a me stesso innanzitutto fa la domanda o su questo ci confrontiamo se no facciamo un confronto su questo assolutamente sì perché se vuole già dire la sua infatti su questo voglio dire la mia lei ha ripetuto 77 volte finisco così ci confrontiamo definitivamente che ci sia stata un'impercriticità io siccome mi ha fatto una contestazione alla conferenza stampa io guarda caso questa conferenza stampa l'ho rivista tutta a parte una domanda e mezzo tutti quanti siamo partiti con abbiamo giocato senza Gomez Tuminello e Vinicius ok poi ci siamo confrontati sì prego allora quando le dice che deve raccontare e non dico a lei dico in generale tutti io raccontiamo quello che vediamo è un discorso raccontiamo su dati reali è un altro discorso nel senso mi spiego bene lei si deve raccontare la partita non può soltanto raccontare il risultato finale se mette un tabellino deve mettere che abbiamo tirato più noi che il Trapani non potrà dire è no non è piaciuto il vostro tiro se ho tirato più del Trapani è probabilmente l'indomani le aspettative di gol sono più verso di me che verso il Trapani questa cosa non è stata documentata se noi in tre partite abbiamo il 66% di media in tre partite siamo la prima squadra per possesso palla e non lo diciamo probabilmente non raccontiamo non l'ha visto non raccontato no è la sfida sul sentirsi toccati e non si può sentire toccato l'allenatore che sta dicendo soltanto probabilmente poi potete smentire lei non deve divulgare ma dobbiamo raccontare di una squadra che ci prova a fare le cose è reale che il probabilmente il risultato di Trapani ci ha portato nell'inganno di dover analizzare una sconfitta e non una prestazione è reale la vogliamo riguardare insieme la riguardiamo insieme ma non solo la conferenza stampa anche la partita io sono disponibile con voi per come sono fatto a trovare e a creare un ambiente sano mi non devo insegnare niente a nessuno però mi dovete lasciare essere quello che sono quello di dirvele le cose perché se io trovo non corretto e per me correttezza è questo lei potrà dire non mi piace questo crotone però questo crotone tira più degli altri in porta ha più degli altri la palla a propria disposizione ci si aspetta e non lo dico io i documenti SIX Wisecout da noi più gol degli avversari in tutte e tre le partite non c'è una partita dove ci assegnano meno dei gol fatti anche con Altamura si si aspettava più dei due gol fatti per dire quindi c'è una squadra che tendenzialmente è in evoluzione se ci fermiamo al risultato io ho soltanto cercato in modo bello anche energico questa mattina di dirvi se ragioniamo solo il risultato non c'è bisogno di fare due conferenze stampe da me se ragioniamo solo del risultato cosa devo spiegare sarò bravo se avrò vinto sarò non bravo se avrò perso riesco a passarlo questo concetto e la critica come la devo ascoltare io la possiamo ascoltare tutti però anche lei ok e infatti premesso perché non sono abituato a rispettare i tempi e le modalità gestite di una conferenza stampa premesso che a me il cordone è piaciuto è fin troppo e mi fermo qua le faccio una domanda specifica le circostanze anche nella gestione fisica di alcuni giocatori non le hanno permesso di gestire nella rotazione dei cambi sulle fasce quello che avrebbe potuto e voluto fare fino adesso parlo di proprio Giron e Rispoli che sono stati diciamo cambiati meno rispetto a quello che l'atletismo delle gare che li ha visti affrontare forse meritavano no guardi sul discorso della della tenuta abbiamo avuto dei cambi da dover fare come dire quasi forzati su alcuni elementi e quindi sì questa è una intuizione molto valida la sua alcune volte fai di necessità virtù e probabilmente il fatto di non aver cambiato i bassi gli esterni bassi è perché tendenzialmente sopra vedicolai non avevamo la possibilità di tenerlo per 90 minuti in campo abbiamo dovuto dare delle possibilità a qualcun altro infortunato o non del tutto in campo sicuro dei 90 minuti di tenuta quindi abbiamo preferito poi sono uno che tendenzialmente nella partita muove poco la linea difensiva anche se noi abbiamo una linea difensiva particolare perché poi i nostri terzini si aggiungono molto alla zona di costruzione o alla zona offensiva quindi detto questo sì le rotazioni che avevamo in testa e lo stato fisico generale della squadra ci ha posto nella condizione di non turnare tanto nella partita stessa i nostri terzini che c'è un'altra parte che c'è un'altra parte che c'è un'altra parte